Bentornato negli studi di Temporadio a Piero Soldati che è il presidente del CDA di Carpenedolo Servizi. Buongiorno, bentornato presidente. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori e grazie per il terzo appuntamento e invito. Benissimo, noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione e ricordiamo, tanto per cominciare, che siamo in diretta streaming su YouTube Temporadio Live, su Twitter e su Facebook le pagine sono quelle del gazzettino Nuove Temporadio e poi per mandare sms, messaggi whatsapp, il numero è 348-3188-339. Qualcuno volesse telefonare può anche farlo, 376-63-1709. Allora, dunque cominciamo con il parlare di cosa, di tamponi rapidi, cosa parliamo? Allora, diciamo che anche oggi faremo comunque due sessioni, la prima 15 minuti parlerò un po' in generale di quello che fa la farmacia, prodotti e quant'altro, nel secondo i 15 minuti il nostro direttore di farmacia darà alcune informazioni su quelle che sono le patologie presenti in questo periodo e come eventualmente aiutare il fisico a superare determinate cose. Farmacia comunale di Carpenedolo. Farmacia comunale, ricordo, sita a Carpenedolo in via 20 settembre, 201 vicino alle poste o all'Italmarca, aperte da lunedì al sabato dalle 8.30 a 13.15-19.30. Detto questo, il periodo, la volta precedente abbiamo parlato un attimo del servizio di tamponi rapidi che avremmo iniziato con settembre. Mi fa piacere vedere che c'è stata una buona adesione, vista purtroppo anche comunque le necessità della popolazione. Tuttavia, vorrei anche dare un piccolo aggiornamento, in quanto dal mese di novembre abbiamo iniziato a effettuare i tamponi rapidi lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio e giovedì e sabato il mattino. Per effettuare le prenotazioni effettuiamo i tamponi rapidi solo ed esclusivamente tramite prenotazione, quindi per poter prenotare il proprio tampone rapido telefonare allo 030-9966-709 dalle ore 9 alle ore 10 e dalle ore 15 alle ore 16 da lunedì al sabato. Naturalmente è giusto anche rammentare che i tamponi rapidi comunque sono prezzi calmierati, prezzi calmierati, dico questo perché? Perché spesso e volentieri ci fanno domande durante le prenotazioni, prezzi che variano dai 15 Euro per gli adulti e 8 Euro per i minorenni dai 12 ai 28 anni non compiuti. I prezzi calmierati non riguardano bimbi che vogliono effettuare tamponi inferiori a 12 anni, quindi il prezzo comunque è 15 Euro paritetico a quello di un adulto. Ricordo che non bisogna presentarsi con febbre, perché questa cosa è importante, non bisogna presentarsi a fare tamponi con sintomi conducibili al Covid, questo è importante perché purtroppo la gente magari è disinformata o di queste cose non presta attenzione. Niente, questo comunque è un piccolo refresh su quelli che sono i tamponi, mi piacerebbe invece cogliere l'occasione per ricordare e rammentare quelli che sono i nostri servizi invece, visto anche l'avvento di dicembre, quindi il periodo di ritalizio. Noi offriamo a tutti i nostri clienti la nostra Fidelity Card, che è una Fidelity che permette di accumulare punti per ogni Euro speso su prodotti parafarmaci o tutti gli altri prodotti diversi dai farmaci, i farmaci non è previsto per legge. Tantissimi nostri clienti comunque hanno questa Fidelity. La raccolta punti che cosa permette? permette di poter usufruire successivamente con i punti raccolti, di poter avere buone spese spendibili in farmacia, oppure una serie di premi che possono essere richiesti e ritirati tramite i punti raccolti. Solo un dato molto importante, nella campagna 2019-2021 abbiamo elargito qualcosa come 522 premi, suddivisi tra premi fisici, oppure buoni acquisti da spendere. Questo che cosa vuol dire? Avere una Fidelity Card è sempre un vantaggio per i nostri clienti. Giustamente, ma poi tra l'altro se ci vai oltretutto perché no, perché non farlo? Perché non farlo? Ora dalla fine gli acquisti si fanno. Esatto. È gratuita, non comporta nessun tipo di spesa e quindi si può fare. L'avvicinarsi di dicembre è del periodo natalizio e ghiotta, perché? Perché comunque mi piacerebbe anche dare qualche informazione sulle promozioni che abbiamo in atto nel mese di dicembre e per il periodo di Natale. Spesso si pensa che la farmacia sia solo un luogo dove poter andare ad acquistare farmaci o per la propria salute. Questo non è vero, in quanto in farmacia si possono trovare tutta una serie di prodotti necessari naturalmente sempre alla bellezza, salute e quant'altro, ma che possono anche essere regalati, soprattutto visto l'avvento del Natale. Quindi da noi è possibile, noi abbiamo il motto, regala una gift card. Una gift card che può essere un taglio da 10 euro minimo fino ad arrivare a un importo desirato dal cliente. Che cosa permette questa gift card? Permette alla persona che la riceve di poter venire ad acquistare prodotti in farmacia. E quindi, visto anche regali ponderati e il momento un po' contingente, regalare una gift card penso che sia anche un'ottima idea come regalo minimo. Giustamente. Abbiamo comunque una settimana di promozione della linea cosmetica NUX, per chi non la conosce è comunque una linea composta da trattamenti viso e corpo performanti innovativi, numero uno dei trattamenti anti-età. Dal 6 di dicembre all'11 dicembre una settimana di promo sconti del 30% sulle linee in promozione. Benissimo. E questo è comunque sicuramente anche una possibile ipotetica idea regalo da pensare. Giusto. Sempre nel mese di dicembre, quindi per tutto il mese di dicembre, abbiamo ancora in corso la promozione della linea AVEN termocosmesi anti-età. Anche qui diciamo che ci sono possibilità di poter effettuare o acquisti per uso personale o anche regali da regalare a familiari e amici parenti. Naturalmente abbiamo anche altre linee di prodotti che possono essere le candele, nasoterapia profumate, diffusori della linea Purae e non ultimo le fragranze della linea IAP, Pharma Parfum, che sono delle fragranze di prodotti naturali disponibili solo esclusivamente nel mondo delle farmacie, simili, fragranze simili a quelle che possono essere i profumi di tendenza e di moda. Quindi tutta una serie di oggetti, di prodotti e quant'altro che potrebbero essere utili anche come regali per il periodo natalizio. Tutti i prodotti, naturalmente, chi non conosce i prodotti è importante sapere che le nostre collaboratrici, le nostre farmaciste sono a disposizione anche le nostre esperte per spiegare quelle che sono e far provare i prodotti diciamo in offerta e in promozione, sia per quanto riguarda la linea Cosmesi e tutto il resto. Quindi venite in farmacia, non solo per fare acquisti di farmaci, ma anche per idea regalo e per la vostra bellezza. E questa è una cosa molto bella. Allora, le leggo i messaggi, Presidente, spero di trovarli tutti quelli per lei. Allora, Presidente, lei è un grande, sa vendere anche prodotti cosmetici femminili e altro, compreso profumi, bravo. Poi ancora, vediamo, questo per il dottore, Presidente, si sente, si vede che la carica che ha, la fa con grande passione e professionalità, un grazie come cittadino di Carpenedolo a lei e al suo staff. Molto gentile. Poi ancora, qua per l'influenza eccetera, magari la leggiamo al dottore, chiedono se avete anche gli sciroppi. Sciroppi non ne abbiamo di tutti i tipi e di tutte le salse, effettivamente. Quindi si tratta di capire che tipo di sciroppo sia. Abbiamo degli sciroppi che possono essere immunostimolanti, dagli sciroppi comunque per tosse e quant'altro, però è più una domanda che lascio comunque al nostro direttore, in quanto essendo un farmacista potrà dare informazioni più dettagliate sulla tipologia di richiesta. Poi, Presidente Soldatico, lei è a capo di tutto, la farmacia è cresciuta come servizi complimenti. Poi ancora vediamo, queste sono più domande per il dottore. Le lasciamo al dottore, non sono un farmacista, un medico. Però questo glielo posso leggere, deve fare l'ECG, l'elettrocardiogramma, voi lo fate come servizio? Noi lo facciamo, sì. Bene. Un servizio che offriamo, quindi alla persona che ha fatto la richiesta chiedo cortesemente di chiamarci in farmacia in modo da poter ricevere tutte le informazioni necessarie in base alla sua esigenza. Ricordo sempre il numero 030 99 66 709. E poi ancora c'era una signora anziana, ecco sono una signora anziana, non riesco a prenotare su internet la terza dose, mi date un aiuto voi. vorremmo tanto, gentile signora, purtroppo le prenotazioni non possono più essere effettuate in farmacia da quando è stato cambiato il nuovo portale della regione Lombardia. Molti dicono che non possono prenotare, noi consigliamo sempre, non riuscito a prenotare via internet, chiamate il numero verde. È capitato anche a me nella prenotazione di mia mamma, comunque ultrottantenne, ho dovuto chiamare il numero verde per effettuare la prenotazione. Mi ha risposto un gentilissimo operatore che mi ha aiutato a effettuare la prenotazione. Benissimo, allora le farmacie funzionano, grazie, bravi, vi fanno anche complimenti, è arrivato anche questo. Grazie, molto gentili. Noi siamo in chiusura, quindi io comincio a ringraziare tantissimo il presidente del CDA di Carpe di Doro Servizi, Piero Soldati. Grazie a voi e sempre grazie per il tempo che ci state dedicando e la possibilità di poter parlare dei nostri servizi e della nostra farmacia.